Questo è un ennesimo passo avanti verso quella che è anche per noi una maggiore tranquillità nell'accogliere i familiari dei nostri ospiti. Chiaramente in questo momento vorremmo tutti dimenticarci che c'è stato questo periodo, vorremmo abbracciarci, toccarci ma questo purtroppo non è ancora possibile. Tamponi gratuiti per i familiari che vogliono andare a fare visita ai propri cari e all'interno delle RSA, questo il nuovo strumento messo a disposizione da oggi. Le porte delle strutture residenziali si erano aperte alle visite dei familiari alcune settimane fa. Per poter accedere è comunque necessario rispettare una di queste tre condizioni, essere vaccinati almeno 15 giorni dalla prima dose, la guarigione dal covid oppure un tampone negativo entro le 48 ore precedenti. Era da ottobre che c'era un blocco, quindi è stato veramente un tempo enorme, quindi c'era la voglia da tanti familiari e anche amici conoscenti di tutti, facendo parte della rete relazionale di ogni ospite e quindi abbiamo tantissime tantissime richieste. Per poter accedere al tampone gratuito adesso occorrerà prenotare la visita nella struttura, indirizzare con una settimana di anticipo un email contenente il modulo per la visita e la copia di un documento d'identità all'indirizzo visitesicure.sanita.toscana.it. A questo punto il richiedente riceverà il codice con cui prenotare gratuitamente il tampone. Ogni ulteriore sicurezza, ogni ulteriore cosa che viene messa in campo per garantire ancora di più che queste visite vengano fatte nel modo giusto per noi è una fonte di tranquillità. Ovviamente tutte le visite dovranno essere comunque programmate e in piena sicurezza.